Allora, quello avete scelto voi? Questo, il 36, che dovrebbe essere piano spirituale corpo di luce. Ecco, sono per persone che cercano qualcosa di più spirituale di quello, non più cose materiali, ma cercano cose spirituali. E questo invece, che sarebbe questo, dovrebbe essere piano emozionale antistress. Antistress perché c'è chi non ha abbastanza forza, per tanti altri motivi ovviamente, non è che sia una colpa, però è uno stato d'animo, preso da altre cose, esatto, preso da altre cose e non riesce a sopportare tutto quello che dobbiamo sopportare per vivere. Un po' anche l'altro, questo è il 20. Il 20 è piano spirituale, modifica energie. Eh beh, le energie, comunque insomma, quello si intuisce, questo è uno molto vicino al significato generale dei cerchi, che appunto, questi cerchi aiutano a riequilibrare tutte le energie, quindi le energie dei chakra, poi insomma, subentrano più discipline, ma comunque anche i chakra, quindi le energie che supportano appunto ogni chakra, e che quindi ogni chakra poi mette in circolazione tutto l'organismo e per cui l'organismo poi alla fine è tutto in equilibrio. Grazie a tutti!